Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale, io sono Andrea e come sempre questo è Curiosando Lanzarote Bene, io ieri ho lavato la macchina pensando che oggi il vento portasse via la calima e invece no La calima è ancora qui a Lanzarote Non ce la faccio più ragazzi Mi toccherà lavare di nuovo la macchina adesso, settimana prossima Sperando che la calima se ne vada Se ne vada Se ne vada o se ne vada? Se ne vada Se ne vada per sempre Va bene, a parte la confusione nell'italiano Io adesso vi lascio al video di Porto del Carmen con la calima E vi do appuntamento dopo perché facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il turismo britannico Ciao a tutti 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 Ciao a tutti